Guillaume, in un giorno di maggio, è primavera come è primavera nel Cantico dei Cantici quando comincia appunto la storia tra lo sposo e la sposa, sogna di alzarsi e di passeggiare fino ad arrivare a quello che abbiamo visto prima, una sorta di ortus conclusus per continuare a usare la terminologia del Cantico dei Cantici che naturalmente qualunque autore medievale sapeva a memoria fino all'ultima sillaba e citava di continuo. E' pieno di citazioni anche il Romano della Rosa. E sulle mura di questo giardino quadrato sono rappresentate un sacco di figure allegoriche negative, dieci vizi o condizioni brutte della vita tipo la vecchiaia, l'avarizia, l'invidia, la tristezza, l'ipocrisia religiosa vestita da monaca. E questo giardino è il giardino di diletto dei dui nel romanzo ed è portiera del giardino la bellissima oziosa. Uazese è naturalmente, come si pronunciava allora, adesso sarebbe Uazese, è naturalmente un nome che a noi evoca subito qualcosa di estremamente negativo. Si diceva bene, un bellissimo giardino degli scioperati. No. Perché quest'ozio, oziosa, è una donna bellissima che non fa che guardarsi allo specchio. Per chi legge nel Medioevo il rinvio immediato è a Rachele, alla vita contemplativa, all'ozio magostiniano appunto che è l'unico che può portare alla condizione migliore, alla conoscenza immediata per via contemplativa scavalcando il limite umano della ragione. E appunto la signora gli apre una stretta porticina, che lui ha durato molta fatica a trovare, e l'amante entra e trova tanti personaggi allegorici, stavolta tutti positivi. Fra cui cortesia che lo invita a farsi un bel giro nella loro danza, nella carola. Poi si è detto appunto va, trova la fontana di Narciso. E questa fontana contiene due cristalli prodigiosi, se se ne guarda uno si vede metà giardino, si guarda l'altro si vede l'altra metà. E in uno dei due specchiandosi appunto l'amante, no questa era l'altra, ecco, vede il rosaio trafitto dal dio d'amore, che lo fa prigioniero, gli fa fare omaggio, diventa suo vassallo, lo riceve tutta una serie di precetti di comportamento, che è la prima arsamandi esplicita che si trova dentro il libro. Il dio sparisce e compare un bel giovinetto, che si chiama Bella Key, Bella Accoglienza. E questo accompagna Guillaume, lì lo vediamo già in fuga, oltre lo sbarramento di Rovi verso la rosa, ma quando Guillaume cerca subito di metterci le mani sopra, lì la chiede immediatamente, compaiono i guardiani del roseto, di Niego, che è quello che lo sta prendendo per la collottola, Danget, che ha l'aspetto di un orrido villano, vergogna e paura, honte, peor, oltre a un altro bruttissimo personaggio che si chiama Malabocca, la maldicenza, male buce. Ora, tutti questi personaggi, Bella Accoglienza e Diniego, sono le due facce della rosa, che non parla mai. La rosa è un simbolo che rimane muto, quelli che parlano per lei sono le sue facce opposte, quella cortese appunto che accoglie e offre e quella invece della ripulsa e sono delle componenti di fatto della rosa anche vergogna e paura. L'unica esterna è male buce, mala bocca e poi sempre esterna è anche gelosia che è il capo di tutti i guardiani. E appunto, cacciato via, con Bella Accoglienza e in fuga, l'amante resta solo e sperduto e scende dalla sua torre, ovviamente sta in una torre al di sopra di tutti, ragione che cerca di convincerlo a rinunciare a questo amore folle che ha appena manifestato, ma non ci riesce, in quattro e quattro otto viene liquidata e se ne torna indietro e trova un altro personaggio a questo punto che è Amico, uomo di esperienza che gli consiglia come fare per blandire Diniego, così con l'aiuto di altri personaggi allegorici che sono franchezza, francis e pietà, Guillaume raggiunge di nuovo Bella Accoglienza e con l'aiuto di Venere che gli dà una scaldatina Bella Accoglienza col suo brandone riesce a farsi concedere un bacio dalla rosa, riesce a baciare la rosa, però intervengono naturalmente appena se ne accorgono di nuovo. I guardiani li riempiono di legnate tutti e gelosia fa costruire un gran castello, no qui siamo di nuovo indietro, ecco, dopo il bacio della rosa eccolo qua, fa costruire un gran castello che il miniatore qui non ha eseguito come doveva eseguire alla lettera, l'ha voluto fare più bellino e di altre forme, qui ha fatto un esagono con un altro esagono dentro, invece ci spiega, e la cosa non è priva di significato per un lettore di allora, che il castello è quadrato e il torrione al centro è tondo, nel torrione rinchiude prigioniero, bella accoglienza. E appunto, fin da ora, fin da quando costruiscono il castello, l'autore ci dice che verrà conquistato da amore, però anche se il lieto fine è assicurato, ci vogliono ancora 18.000 versi per arrivarci. Infatti, da questo punto in cui si interrompe l'altro autore, interviene Jean Demain, che riprende tutti gli ultimi punti dell'azione, però amplificando parecchio, torna giù, ragione, ma stavolta invece di farsi liquidare in dieci battute, va avanti per 3.000 versi e nelle sue argomentazioni è tutto uno zampillare di immagini, storie mitologiche, un caledoscopio continuo di immagini e storie che continuerà anche dopo nei discorsi degli altri personaggi. Per esempio, Amico, che torna anche lui, impartisce una lunghissima Arsamandi che ingloba quasi tutta quella di Ovidio. Amore ricompare di nuovo insieme a un esercito, mette insieme un esercito di vassalli per attaccare il castello, questa è la figura che abbiamo messo in evidenza sul leggio. E ci sono in questo esercito tutti i personaggi positivi nominati prima, salvo ricchezza, ricchezza a altre strade per arrivare alle rose se ne vuole. E tra l'altro non sono nemmeno strade tanto belle. E appunto a tutti questi personaggi positivi se ne vanno a unire due che sono falsembiante, come lo chiama Dante o chi per lui, in un volgarizzamento parziale, in sonetti, del romano della Rosa, risalente appunto alla seconda metà del 200 e che un filologo tra i più importanti del 900, che era Gianfranco Contini, pensò di poter attribuire a Dante giovane, come sempre quando si parla di attribuzioni su testi medievali, sono da prendere con le molle, ma di sicuro risale alla giovinezza di Dante, il che vuol dire che già appena pubblicato di fatto, negli anni 80, al massimo primi anni 90, del 200, era già stato ridotto in sonetti toscani, era già un best seller. Ecco, appunto, Fossain Blanc lo chiama falsembiante e è un simbolo dell'ipotesia specialmente religiosa, tant'è che è vestito da frate, e gira in compagnia di una signora che si chiama Forzata Astinenza, vestita da Beghina, incinta naturalmente di lui, e sono gli unici due personaggi negativi, poi ce lo spiegheranno anche perché li ritroviamo in questo esercito di personaggi positivi, perché per far fuori i nemici come Malabocca tutto è lecito, dopodiché verranno allontanati. I due si rendono appunto molto utili perché ingannano il guardiano Malabocca, perché Gelosia aveva messo tutti i guardiani alle porte del castello, gli tagliano la lingua e la gola e così aprono un varco per far entrare i vassalli d'amore, soldati. Per primi entrano cortesie e larghezza, blandiscono il personaggio pure topico che Gelosia aveva messo a guardia già nella parte di Guillaume de Lorris, che era la vecchia, una vecchia navigata, impossibile ingannarla perché le sapeva tutte, visto che tutte le aveva provate. E così lei blandisce a sua volta bella accoglienza, facendogli pure lei un'altra lunghissima Arsamandi, stavolta perfetto contraltare di quella serie fatta da amico e da amore, perché è l'Arsamandi della perfetta prostituta o comunque signora interessata e la vecchia alla fine permette di nuovo l'incontro fra bella accoglienza e l'amante. L'amante persevera nel suo prendere attorto alla lettera, alle cortesie di bella accoglienza, cerca di nuovo di allongare troppo presto le mani sulla rosa e così comincia una vera battaglia, una di quelle che nella letteratura antica si chiamavano psicomachie. E gli assedianti stanno per averla peggio, gli assediati resistono molto bene. Ora questa figura che avete visto per un po' mentre parlavo è una delle tante digressioni che ci sono state prima e non è priva di senso, ne riparleremo dopo come questa. Questi invece sono malabocca e forzata astinenza che travestiti appunto da religiosi, però con una bella spada in mano, poi faranno fuori malabocca e qui sto scorrendo però troppo in là, non c'ho più figure utili perché ecco invece la battaglia davanti al castello e stanno per averla peggio ma amore finalmente si decide a mandare a chiamare Venere, la mamma che arriva e giura insieme al figlio che non permetteranno alle donne e agli uomini di restare casti senza seguire i sentieri d'amore e qui torna utile ritornare appunto su quella figurina che abbiamo vista prima. Questa è l'età dell'oro che in una delle digressioni precedenti del romanzo viene raccontata come un momento in cui ancora uomini e donne si amavano liberamente senza la costrizione del matrimonio che diventa di fatto uno strumento di prevaricazione e di mercificazione dell'amore che può sembrare una teoria estremamente moderna ma girava a metà del XIII secolo proprio nell'ambiente universitario viene naturalmente soffocata viene condannata esplicitamente dal vescovo di Parigi Etienne Taunpied nel 1277 è lo stesso vescovo con la stessa appunto con le stesse con lo stesso scritto che condanna anche il D'amore di Andrea Cappellano e molte altre cose e erano probabilmente le cose che circolavano quando Jean Demain studiava all'università lui nel Romano della Rosa parla con molto affetto dell'università e racconta le dispute tra ordini mendicanti e universitari iniziate negli anni 50 alla fine degli anni 50 anteprotrattesi abbastanza a lungo dicendo in un tempo di cui mi ricordo vuol dire che c'era anche lui ed è appunto una teoria di quelle importanti propugnate da tutta questa storia perché ora che si arriva all'intervento di Venere e siamo all'indietro che si arriva all'intervento di Venere questa è un'altra digressione su un'altra fissa che ha appunto le virazioni da parte di Giove del genitore e che fa finire di fatto l'antica età dell'oro e dal via l'età del ferro e appunto è una delle cose che specialmente adesso vengono un po' spiegate anche al momento in cui arriva Venere fanno questo giuramento di non andare più contro Natura ignorando amore Natura c'è un cambio di inquadratura lo sente dalla fucina in cui sta martellando c'era la figurina eccola qua sta martellando come un fabbro e escono uccellini leoni conigli appunto escono tutte le creature se ne rallegra però continua a lamentarsi come stava facendo prima perché tutte le creature del mondo seguono la sua strada e l'uomo no se ne lamenta con un personaggio bizzarro che si chiama genius genio lo ha pescato Jean Demain da un serbatoio a cui attinge a piene mani che è quello della letteratura latina del dodicesimo secolo e in particolare lo si ritrova in Bernardo Silvestri Alano Dallilla ed è una specie di vicario della natura che a sua volta è vicaria di Dio cameraria la chiama lui c'è amberiere che non vuol dire cameriera nel senso moderno ma appunto è la tesoriera è la vicaria e compare questa specie di suo prete lei ci si confessa appunto si lamenta lui la assolve di tutte le invettive che ha lanciato contro la sua creatura più perfetta e lei lo incarica di andare a fare una bella predica all'esercito di amore in cui appunto rivestito come un vescovo da amore stesso assolve tutti i valentuomini che si impegnano a seguire con costanza le regole di natura e si sforzano ad amare rettamente si sforzano di amare rettamente per moltiplicare la stirpe e lo fa tutto questo gran discorso introducendo una metafora su cui poi si chiuderà in modo un po' piccante il romanzo introduce la metafora già adombrata dalla natura fabbro degli attrezzi con cui si può dare un'esistenza durevole al creato e appunto i martelletti con con cui forgiare e descrive anche quella che sarà la loro meta finale ovvero qualcosa che supera di gran lunga il giardino di diletto che loro credono essere il luogo più delizioso che si possa trovare gli spiega che quello è un giardino quadrato il quadrato simboleggia le cose terrene quelli sono piaceri sì perfetti ma per la terra dunque del tutto imperfetti nella prospettiva in cui si devono muovere d'ora in poi loro andranno se operano rettamente secondo natura come li sta estruendo a fare in un parco perfettamente rotondo seguendo appunto l'agnello il pascolo gioioso dell'agnello lo chiama che è il contraltare celeste di diletto terrestre al posto della fontana di Narciso ci si troverà una fonte della vita alimentata da se stessa attraverso tre sottili vene ovviamente la trinità e lì ci si vede tutto insieme non metà alla volta come nella fontana di Narciso e non è sotto un pino che significava l'immortalità per gli antichi ma sotto un olivo che è l'albero invece della salvezza per i cristiani che simboleggia l'immortalità nostra insomma alla fine infiammati da questa gran predica che gli fa vedere di fatto la vita eterna guadagnata perpetuando quella che ci ha dato sulla terra appunto Dio attraverso la natura Genio lancia il cero che aveva tenuto fino a quel momento partono tutti all'attacco coadiuvati dal brandone di Venere un'altra volta che stavolta lo lancia direttamente mirando a una piccola feritoia tra due pilastrini che sostengono una statua reliquiario la l'immagine insomma erotica è anche troppo chiara e così vincono bella accoglienza di nuovo a tu per tu con l'amante stavolta concede la rosa e l'amante in veste di pellegrino con tutti gli strumenti appunto con la bisaccia che contiene i due martelletti e un bel bordone dritto e forte parte alla conquista della rosa del santuario reliquiario e così arriva finalmente a cogliere il bocciolo e concludere il sogno vediamo se hanno questo tornato sì no ci sono che no queste le marte venere allora stiamo tornando indietro le schermo hanno messa la rovescia ecco questa invece era la parte teologica perché questo lo racconteranno magari o no forse no appunto perché la caratteristica di questo bellissimo manoscritto ve lo racconto alla fine è comunque di illustrare tutto anche le cose più difficili da illustrare poi ci torneremo e appunto alla fine questa è la scena finale come l'amante gode la rosa ce li rappresenta non più la rosa come questa appunto ma stavolta in figura femminile la esplicita ecco proprio per questa seconda sezione del romanzo dovuta all'ingegno rutilante di Jean de Menna il romano della rosa godette fin dall'inizio di un successo strepitoso anche presso i chierici più colti tutti appunto perfettamente in grado di vedere che cosa poteva esserci al di là della lettera nella tradizione dei romanzi allegorici perché ce ne sono poi diversi nel tredicesimo secolo già la prima parte del romano della rosa è piuttosto originale e combina tanti elementi tradizionali in qualcosa di cui non si hanno altri riscontri sicuramente precedenti ancora più inedita è la parte di Jean de Men quel che appare appunto nella prima parte appare ripeto come una storia d'amore abbastanza evanescente diventa una storia tinte decisamente più forti sempre in bilico tra carnalità estremamente pronunciata e alta teologia fra lo scherzo goliardico l'imbettiva morale e appunto e tutti e due gli autori coltissimi intrecciano una quantità strepitosa di citazioni da letteratura antica letteratura medievale letteratura pagana letteratura cristiana con accostamenti e fusioni che a noi possono sembrare molto arditi perché per esempio dentro l'Arsamandi di Ovidio che viene riusata quasi tutta si stempera per esempio quasi tutta la consolazione della filosofia di Boezio oppure il Policraticus di Giovanni di Sosbury opera in latino scritta nel XII secolo negli anni 50 del XII secolo dedicata a Thomas Beckett e molto letta ancora al tempo di Jean Demain rimangono più di 200 manoscritti adesso che era di fatto un trattato sul buono sordo vivendi ovvero sul giusto modo di praticare la vita attiva per conquistare il livello superiore quello della vita contemplativa è appunto un tema che agli uomini del Medioevo stava parecchio a cuore e per capirli bisogna cercare per capire i testi anche apparentemente erotici e basta come il Romano della Rosa bisogna mettersi un po' in questa prospettiva e capire anche la tipologia di testi che Jean Demain ha stemperato dentro la costruzione di questo romanzo anche perché se si volesse isolare quel che c'è di assolutamente originale nel Romano della Rosa togliendo tutte le citazioni non rimarrebbe quasi nulla eppure il prodotto è assolutamente nuovo e sorprendente non è nuova nemmeno la metafora della Rosa la storiella della Rosa da conquistare simbolica è nei Carmina Burana la metafora della palizzata da rompere appunto per arrivare al al bocciolo era già in Gautier d'Arra però è tutto rifatto e rifuso con una predominanza peraltro di testi filosofici teologici e appunto sono tutte cose da cercare di tener presenti e forse tenendo presente che tutto non potrebbe essere altro che una metafora di questo genere come del resto è stato interpretato il romanzo anche in anni di pochissimo precedenti alla confezione di quel bel manoscritto nel 1483 fu pubblicato giusto appunto un rifacimento in prosa che vedeva il romano della rosa proprio come un pellegrinaggio dell'anima è un'opera fatta per delettare e docere e forse forse soprattutto la seconda è quello appunto che devono fare i poeti secondo le parole dello stesso Jean de Maine non è non è una cosa fatta per divertirsi e basta però io vi ammaestro in un modo in cui non saprebbe non potrebbe riuscire che so Giovanni di Sosbury che vi annoierebbe vi respingerebbe oppure non sapete leggere il latino vi dico le stesse cose ma divertendovi e con questo forse è meglio se passo la parola perché forse ho tracimato alla signora Frugoni che già poi se ne rip passiamola forse direttamente in modo poi da rivolgere le domande a entrambi volevo soltanto dire una cosa il Medioevo è pieno di il Medioevo la tarda antichità di testi sacri di sacre scritture che in realtà sono testi erotici ma soprattutto di testi erotici che in realtà sono testi sacri e questo non c'è niente da fare se non teniamo presente non capiamo nulla di questi molti secoli e del fatto che comunque in questo affondino già le radici in un personaggio chiave che viene effettivamente invocato fin dall'inizio che è che è macrobio forse quindi su questo stranissimo gioco di tarocchi o appunto è stato evocato Lewis Carroll giustamente perché io ho sempre pensato che Lewis Carroll così come si è ispirato certamente a San Paolo per specula in enigmate quantomeno nel titolo della continuazione del paese delle meraviglie ma quell'inizio nel giardino e come descritto e come sono descritti i quads di Alice io ho sempre pensato che ci avesse in mente il romano della rosa tra le moltissime cose che hai in mente quindi voglio dire questa mentalità che ci diceva di continua citazione all'alcubo all'an potenza poi non è soltanto rimasta nel mondo antico è antica è medievale ma forse qualche cosa in più che continua in una sua veste forse sotterranea anche nel mondo moderno però questo vi si è detto fra parentesi perché in realtà ancora siamo molto disorientati perché questa storia non è per niente chiara e però chiara frugoni adesso ci dirà qualcuna delle molte cose delle molte cose che sa intanto io ho ricevuto delle lodi in debite perché non sono una specialista in questo io ho fatto sempre storia medievale anche se mi sono sempre occupata di immagini ecco io mi ho pensato di concentrarmi su quest'unica miniatura che è il frontespizio perché avendo naturalmente ho letto il bellissimo libro che accompagna il facsimile quindi oltre al saggio di Roberta Manetti ce n'è un altro che interpreta le miniature appunto di Nathalie Qualli e da un punto di vista iconografico e quindi non volevo ripetere le cose che sono state dette magari potevo dirne qualcuno in più ma o di lato però mi è sembrato visto che di questo si parla assai poco mi sono concentrata su questo ecco perché mi ha colpito il fatto che questo che è il frontespizio è l'unica immagine dove il miniatore si è impegnato in un in un bordo floreale molto bello molto preciso come vedrete con una serie di fiori e con una immagine di cui poi adesso vediamo gli ingrandimenti estremamente riumatica ve la anticipo è quella in basso comunque poi la vediamo benissimo che è una figura di donna nuda con due con due bende che attraversano il petto con questa figura di chiocciola ecco allora io mi sono chiesta perché avesse messo delle cose così precise e oltre naturalmente ad avere rappresentato i due autori allora comincio dalla scusate comincio dall'ingrandimento appunto della parte degli autori e noi possiamo vedere voi come lo vedete cioè insomma la persona che dorme perché non vorrei dire destra e sinistra sbagliate a destra benissimo ecco allora la persona che dorme appunto è il primo poeta e lo vediamo appunto steso nella sua camera intento in questo sogno che è il suo sogno con soltanto una piccola pergamena in mano un rotolo ecco mi sono chiesta che cosa significasse rispetto al secondo poeta che invece vediamo rappresentato molto intanto molto più maturo e riccamente è seduto nel suo scranno con il manoscritto molto più corposo e forse c'è proprio anche l'idea che il primo è soltanto un sogno che quindi lui condensa in poche cose mentre invece l'altro è il poeta che ha continuato con anche questa grande difformità di versi e qui quello che è interessante è vedere che già alla finestra ci sono dei personaggi che ho visto che in vari immagini non del romanzo della rosa ma è una convenzione iconografica questi sono i testimoni i testimoni che quindi già testimoni il successo di questo testo una piccola cosa a margine uno sbaglio del miniatore che ha scritto prima il foglio a destra e poi a sinistra si comincia sempre a scrivere invece da sinistra a destra questo è un piccolo gli è venuto ha fatto un piccolo errore uno dei pochissimi è un altro ancora ma è uno dei pochissimi errori del miniatore ecco qui vediamo questo poeta in questo sonno molto molto bello in questo sogno e cominciamo allora a riguardare questo questo bordo allora in alto cominciamo con dei garofani ecco fra l'altro è bellissimo come questo miniatore veramente è attento nel rappresentare i fiori con una grandissima precisione allora qui abbiamo questi garofani rossi e anticipo già tutto quello che io voglio dire di questo bordo perché secondo me riflette proprio quello che è stato detto in tutta questa relazione precedente cioè secondo me il miniatore ha voluto mettere questi fiori ognuno dei quali ha un significato ambivalente cioè nel senso che quindi c'è un continuo passaggio fra l'idea di un amore carnale a un amore spirituale perché per esempio per quanto riguarda il il garofano noi possiamo vedere un particolare del palazzo Schifanoia a Ferrara del Cossa e potete vedere la fanciulla quindi credo che sia la vostra sinistra che tiene in mano un garofano mentre dall'altra parte un melograno che sono simbolo di amore di matrimonio e di fertilità quindi questo è un esempio di amore terreno nello stesso tempo però il il garofano può anche rappresentare invece l'amore di Dio e quindi qui abbiamo per esempio questo che è il sogno di Sant'Orsola del Carpaccio quando lei sta sognando ancora che dovrebbe andare a raggiungere il suo fidanzato e poi però finirà martire e quindi qui vediamo l'amore di Dio perché sulla finestra vediamo appunto un mirto e un mazzo di garofani ancora più ancora più chiaro è questo quadro di Ridolfo Ghirlandaio e Michele Tosini che rappresenta il matrimonio di Santa Caterina e proprio davanti c'è un vaso dove ci sono appunto tre garofani che rappresentano la Trinità e quindi di nuovo qui il garofano rappresenta invece l'amore di Dio abbiamo poi questo guerriero che mira al garofano e quindi di nuovo qui è la rappresentazione con tutte appunto le possibilità che sono state già così bene illustrate dopodiché si scende a questo secondo fiore devo dire che io non sono molto brava nell'identificare i fiori quindi ci ho messo un pochino a capire che fiore fosse questo blu che voi vedete è un'aquileggia allora adesso ve lo faccio vedere qui accanto c'è il gallo e per farvi vedere appunto ah scusate allora c'è un'aquileggia e il gallo il gallo naturalmente certamente rappresenta anche Dio che sveglia i morti ma nel linguaggio più abituale è il gallo di San Pietro quello del tradimento come qui vedete è una porta la porta di Benevento e vedete l'ancella che dice a San Pietro anzi veramente le aveva detto Cristo prima che il gallo canti tu mi avrei tradito tre volte e qui vedete appunto l'ancella che dice a Pietro ma tu eri con il nazareno e là c'è il gallo e Pietro poi in lacrime che riconosce quindi è il tradimento che è uno degli altri temi che percorrono il Romano della Rosa ecco qui volevo farvi vedere il fiore che è appunto un'aquileggia e tornando indietro invece appunto vedete com'è perfetto questa rappresentazione e questa aquileggia invece rappresenta ha un significato negativo di tradimento e di morte e questo lo vediamo molto bene in questo quadro del Pisanello in cui si vede uno sfondo di non voglio sbagliarmi sempre di Ginevra d'Este che fu data in sposa sicismondo ma la testa e che fu avvelenata dal marito e quindi ha questo aspetto estremamente triste e qui ci sono dei fiori e una farfalla che ritroviamo proprio nello stesso bordo e ora vediamo dei particolari ecco qui l'aquileggia i garofani e di nuovo l'aquileggia e in alto la farfalla la farfalla eccola qua di nuovo e la farfalla invece rappresenta l'anima basta pensare a Dante che parla dell'angelica farfalla quindi è l'elevazione dopodiché arriviamo a questa figura che è stata quella che più mi aveva colpito perché è una figura da una parte estremamente sensuale una donna nuda e dall'altra parte però ha due altri due altri connotazioni allora da una parte la chiocciola e la chiocciola rappresenta in realtà la pazienza del sapere aspettare e questo è un è una una parte di un quadro di Antonello da Messina sono i tre angeli che arrivano da Abramo e dicono a Sara che finalmente avrà Isacco e c'è una chiocciola che qui adesso forse non si vede tanto ma che assolutamente è credo di non avere l'ingrandimento quindi mi scuso per questo però ancora meglio lo si vede qui in questo quadro di nuovo del cossa dell'annunciazione in cui si vede invece in primo piano una chiocciola e qui vi posso portare l'ingrandimento e questo rappresenta anche il riservo il pudore che è uno dei temi che attraversano sempre il Romain de la Rose dopodiché c'è però questo due due bende che vedete che attraversano il vento e questo devo dire che sulla scorta di un saggio di Seidel questo mi ha portato cioè mi sono ricordata di questo saggio di Seidel che era per una scultura di Giovanni Pisano che ora vi faccio vedere eccola qua che sta a Genova ed è Margherita di Lossemburgo che è morta all'improvviso nel 1311 la quale qui in questo frammento è rappresentata mentre sale in cielo e in questo saggio molto bello di Seidel lui dimostra che queste naturalmente queste stola portata così parte da un simbolo sacerdotale però in questo contesto cerco di di riassumerla in questo perché è un saggio molto bello scusate allora in questo contesto lui parte dall'idea che sia dall'apocalisse dove appunto ci sono i martiri che chiedono di essere rimunerati e lì c'è l'agnello celeste con le stole ma torna ma torna soprattutto nel fatto che quando si comincia a parlare della assunzione della Madonna non solo nell'anima ma anche nel corpo si parla quindi di una stola gemina e qui allora si può vedere spero che lo riusciate a vedere c'è Cristo con in braccio l'anima della Madonna che però ha già la stola incrociata oppure questa immagine della Madonna e questa della scuola di Simone Martini che viene portata in cielo e anche qui spero che riusciate a vedere bene la doppia la doppia stola quindi tornando a questa a questa immagine a me sembra che il significato di questa immagine sia estremamente duplice c'è da una parte l'amore carnale dall'altra parte tutte queste qualità che abbiamo visto della prima del primo romanzo dove la rosa è così pudica e dall'altra parte la seconda parte dove invece l'amore è molto più carnale e però queste due bende che significano l'elevazione dell'anima e quindi mi sembra che in questo bordo l'autore abbia voluto presentare questo ho ancora un'altra piccola cosa da dire e questo non vi stupisca perché vi faccio vedere un libro proprio di bambini spero di ritrovare immediatamente ecco è un libro di Mireille D'Ajansé se qualcuno lo vuole comprare per un nipotino perché mi ha molto colpito perché allora la storia scusate se la riassumo rapidissimamente perché proprio mi ha molto colpito perché è lo stesso modo di vedere tanti personaggi nel medioevo cioè questo è un bambino che viene rimproverato dai genitori mandato a letto senza scena lui ritiene di essere stato punito ingiustamente e allora naturalmente gli si scatena un'enorme rabbia ma la rabbia non è in lui è una rabbia esterna che viene e comincia a sfracassare tutto finché a un certo punto questa rabbia sfracassa una cosa che adesso non ve l'ho voluto farlo raccontare vedere tutto sfracassa una cosa sta per sfracassare una cosa che a lui piace molto e quindi allora lui dice no basta e quindi la rabbia se ne va ecco questo mi sembra che è molto fine come storia perché ha capito benissimo che questo è il linguaggio dei bambini che non sono abituati appunto che non sanno niente di Freud e del linguaggio intrapsichico dove nella mente ci possono essere varie porzioni ognuno delle quali sostiene una propria idea ed è la stessissima cosa per esempio del romano della rose dove noi abbiamo visto una quantità di personaggi che non sono altro che i sentimenti estrinsecati perché non c'è ancora quest'idea del parlarsi fra di loro e cito ancora con questo chiudo per esempio lo stesso Verdi facendo un grande salto per esempio nella nella traviata all'inizio quando c'è Violetta che non sa bene se cominciare un amore serio o continuare in queste sue avventure effimere sente fuori mentre lei dibatte sente come si chiama Alfredo che canta di quell'amore in realtà non è altro e questo l'ha scritto appunto Baldini non è altro che la stessa Violetta che estrinseca questa sua idea forse è tirata un po' per i capelli però è questa idea che è lei stessa in realtà che sta pensando di cedere a questo amore vero cioè quindi questo mi è sembrato il ritorno al romano della rose cioè che proprio è un modo tipicamente medievale di rappresentare tutto in maniera chiara e da dove vengono fuori le varie cose questo mi permette anche di capire come tante volte uno può pensare che ci siano dei grandi mentitori che non lo sono affatto cioè mi spiego meglio per esempio io stavo studiando la mia specialità è San Francesco allora San Francesco a un certo punto c'è frate Leone che comincia a raccontare che veramente Cristo è apparso a Francesco gli ha dettato la regola per esempio oppure che Cristo è comparso direttamente a lui stesso e gli dice insomma io non ne posso più di questi frati che non seguono la regola eccetera eccetera ecco tutto questo secondo me va letto di nuovo come un modo di rappresentare cioè quello che lui sta pensando in realtà lo estrinseca in quello che a volte noi possiamo anche pensare non so uno che parla anche all'alta voce cioè sono veramente i vari conflitti psichici che invece nel linguaggio medioevale venivano estrinsecati ho finito grazie ho portato tanta di quell'acqua al mio mulino e tra l'altro per chiudere e ascoltare queste cose interessantissime non ho finito di raccontarvi quale sia la simbologia della rosa perché naturalmente a livello letterale la rosa rappresenta qualcosa di imbilico tra la donna e il sesso della donna è una figura femminile chiunque abbia un minimo di confidenza con la Bibbia sa che una figura femminile può voler dire tante cose per esempio la sapienza nel libro attribuito a Salomone è una donna bellissima con cui lui vive maritalmente l'ha amata dalla prima giovinezza e la vuole sposare ed è un tormentone che torna e spopola nel medioevo questo molto più di quanto non venga riconosciuto spesso dai critici però appunto la rosa è anche un simbolo molto presente nella letteratura mistica è la rosa mistica e la Vergine Maria però è anche la ricompensa del pellegrino spirituale e con questo si ritorna una delle interpretazioni secondo me più centrate appunto del senso anagogico dell'opera le rose vermiglie sono il premio dei martiri negli scritti dei principali padri della chiesa fra cui Agostino e Gregorio Magno c'è tutta una saggistica su questo e la fontana di Narciso riporta sempre a qualcosa di Agostiniano che ripiglia dall'antichità ma poi elabora in chiave cristiana il nosce te ipsum e appunto lo specchiarsi nella fonte di Narciso è il guardare dentro di sé anche e messe insieme tutte queste cose ovviamente sono tutti indizi che possono dare l'idea di come dal romanzo apparentemente erotico appunto si vada come dall'erotismo si scivoli allo spirituale esattamente come succede in quella cornice così ben analizzata e così utile al discorso insieme Grazie a tutti. Mi pareva che fosse maggio. Sognai di trovarmi una notte, in quel tempo delizioso in cui ogni creatura si scatena nell'amore. Mi pareva, mentre dormivo, che fosse pieno mattino. Mi alzai senza indugio dal letto, mi calzai e mi lavai le mani. Mi venne voglia di uscire dalla città per ascoltare la melodia degli uccelli che in quel tempo di primavera cantavano fra i cespugli. Percorso un tratto di cammino, vidi un giardino molto vasto, tutto chiuso all'intorno da un muro merlato, dipinto e scolpito all'esterno, con molte ricche rappresentazioni. Ammirai con piacere i rilievi e le pitture sul muro. Il muro era alto e perfettamente quadrato. Da questo era chiuso e sbarrato, come da siepi, un verziere, dove non era mai entrato pastore. Quel giardino era posto in un luogo stupendo. Allora me ne andai di gran carriera, facendo il giro della recinzione, formata da quel muro quadrato, fin quando trovai un usciolino ben chiuso, piccolo e stretto. Bussai e spinsi un bel po'. Infine la porticina, che era di carpino, mi fu aperta da una damigella, leggiadra e di nobile aspetto. Quando l'elegante fanciulla mi ebbe così aperto l'uscio, la ringraziai caldamente. E le chiesi come si chiamasse e chi fosse. Lei non fu altezzosa con me e non disegnò di rispondermi. Disse, dai miei conoscenti mi faccio chiamare oziosa. Sono in grande intimità con il leggiadro e amabile Diletto. È lui il padrone di questo giardino. Diletto e il suo seguito, composto di gente che vive in perfetta gioia, vengono qui spesso per divertirsi e prendere il fresco. Questi personaggi di cui vi parlo erano impegnati in una carola. Cantava per loro una dama chiamata Letizia. Sapeva cantare bene e piacevolmente. Rimasi lì fermo a contemplare la carola finché una dama dall'aspetto assai lieto mi scorse. Era la valentissima cortesia che Dio la preservi da ogni avversità. Non vi farò lunghi discorsi su quel luogo fascinoso e ameno. Ormai dovrò tacerne, perché non potrei descriverne tutta la bellezza e la grande piacevolezza. Andai comunque tanto di qua e di là che finii per esplorare e vedere ogni parte del giardino in tutti i dettagli. Nel frattempo il Dio d'amore mi ha seguito spiandomi costantemente come il cacciatore che attende che l'animale si fermi in un posto buono per lasciar scoccare la freccia. Infine giunsi in un luogo bellissimo dove trovai una fonte sotto un pino. Nello specchio, tra mille altre cose, distinsi dei roseti carichi di rose che si trovavano in un luogo appartato, chiuso all'intorno da una piccola siepe. C'erano dei boccioli piccoli e chiusi, altri un po' più grossi, altri di differente misura che si avvicinavano al culmine della loro stagione e si apprestavano a sbocciare. Tra questi boccioli ne scelsi uno così bello che al suo confronto tutti gli altri mi parvero non avere alcun pregio dopo che lo ebbi ben osservato perché lo dipingeva un colore così vermiglio e perfetto che natura non avrebbe potuto crearlo migliore. Mi sarei avvicinato per prenderlo se avessi osato tendere la mano ma dei cardi accuminati e pungenti me ne tenevano ben lontano spine taglienti ed acute, ortiche e rovi uncinati non mi lasciavano avanzare perché temevo di ferirmi. Il dio d'amore non appena si accorse che avevo così scelto quel bocciolo che mi piaceva più di qualunque altro ecco che prese una freccia e quando la corda fu nella cocca tese fino all'orecchio l'arco che era incredibilmente potente e tirò contro di me in modo tale che attraverso l'occhio mi piantò la saetta dritta dritta nel cuore mentre io ero in dubbio se passare oltre la siepe vidi venire dritto verso di me un giovane bello e piacente in cui non c'era nulla di criticabile si faceva chiamare bella accoglienza era figlio di cortesia la veduta costui mi concesse con grande affabilità il passo attraverso la siepe e mi disse amabilmente carissimo amico se vi piace passate senza indugio la siepe per sentire il profumo delle rose ve lo posso senz'altro garantire non ne riceverete né male né offesa purché vi guardiate da azioni sconvenienti mi dirigo verso il bocciolo che esala un profumo più gradevole degli altri e bella accoglienza mi accompagna in verità vi dico che mi piacque molto lo stare così vicino al bocciolo da poterlo toccare ma un villano che se ne stava nascosto là nei pressi di niego si chiamava ed era guardiano e custode di tutti i roseti quel miserabile se ne stava in un canto tutto coperto d'erba e di foglie per assaltare di sorpresa chiunque avesse visto allungare la mano sulle rose e quel mastino non era mica solo aveva anzi come compagno quel chiacchierone di mala bocca e insieme con lui vergogna e paura ora sono in quattro a far la guardia ai roseti mi recai tutto vergognoso da diniego anelando di far pace ma non superai la siepe perché mi aveva proibito il passaggio mentre me ne stavo in questa pena ecco che dio mi manda franchezza e con lei pietà non ci fu più alcun indugio vanno entrambe difilate da diniego allora diniego non poté più resistere gli toccò moderarsi e disse signore non oso in questo opporvi un rifiuto perché sarebbe una villania troppo grande voglio che abbia la compagnia di bella accoglienza giacché a voi piace non vi frapporrò più ostacoli bella accoglienza per cominciare mi salutò molto affettuosamente allora mi prese la mano per condurmi dentro il recinto che diniego mi aveva vietato quando vidi che non mi negava né il piacere della sua compagnia né il suo servizio gli richiesi una cosa che è bene ricordare signore dissi sappiate che in verità muoio dalla voglia di avere un prezioso bacio dalla rosa che suavemente olezza venere si avvicina a bella accoglienza e prende a dirgli perché signore caro vi mostrate così restio a concedere a quell'innamorato un dolce bacio bella accoglienza che sentì l'ardore della torcia senza più tardare mi concesse un bacio in dono tanto potere ebbero venere e la sua fiamma non vi fu più alcun indugio presi immediatamente dalla rosa un dolce e delizioso bacio ma la bocca che immagine indovina l'intenzione di tanti innamorati e ridice tutto il male che può si accorse del favore che bella accoglienza si degnava di concedermi e per conseguenza non poté tacere tanto il mascalzone disse male di me e del figlio di cortesia che fece risvegliare gelosia questa si levò tutta turbata a questo punto è tempo che vi dica della condotta di gelosia che ha i più neri sospetti fa dapprima scavare intorno ai roseti dei fossati che verranno a costare una bella somma di denaro perché sono molto larghi e profondi sopra i fossati i muratori costruiscono un muro di blocchi di pietra squadrati che non poggia certo su terreno molle anzi affondamento di roccia viva al centro dello spazio racchiuso dal recinto delle rose costruiscono con grande maestria un torrione all'esterno è circondato da una palizzata che corre tutto intorno e tra la palizzata e il torrione stanno piantati fitti i roseti gelosia che Dio la confonda ha posto un presidio nel torrione circolare e sappiate che vi ha messo i suoi più intimi amici cosicché vi era una forte guarnigione intanto bella accoglienza prigioniero chiuso nella sommità del torrione il cui uscio è così ben sbarrato che non ha modo di venire fuori una vecchia che Dio la maledica sta con lui per fargli la guardia e non svolge altro incarico se non quello di spiarlo perché non si comporti in modo sconveniente musica di spiarlo di spiarlo di spiarlo di spiarlo in modo che si è che non ci ha di spiarlo ma si è in modo qui e se si è qui il it s la la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.